La Palermo Monte Carlo è una regata fantastica, quindi è divertente, bella, è lunga e ci divertiremo, è bello, siamo tutti in ansia, aspettiamo di partire. Il messaggio di prevenzione è un messaggio veramente bellissimo perché è un messaggio di salute. Il cambiamento dello stile di vita è una cosa semplice, perché non cominciare dando l'esempio con la barca a vela. Siamo in mezzo al mare, si respira aria buona, si fa esercizio fisico, ma non basta. Per cambiare stile di vita bisogna avere anche una corretta alimentazione, lo sport fatto in maniera non esasperata, ma sicuramente un buono sport di squadra aiuta a stare insieme e ad andare più lontano, quindi noi contiamo di vincere e poi evitare gli abusi. Infatti la nostra barca non avrà Coca-Cola, non avrà patatine, non avrà fumo, non avrà droghe, siamo esenti da quelli che sono gli abusi, anche alimentari. Cercheremo di, non dico mangiare solo sardine, ma cercare di promuovere un'alimentazione corretta e cerchiamo di veleggiare nel migliore dei modi, cercando di portare queste ragazze insieme ad atleti professionisti a partecipare alla Palermo Monte Carlo, che insieme alla Lega Navale ha creato veramente per noi l'opportunità unica ed esclusiva di partecipare a questa regata. Per una ragazza cardiopatica che cosa vuol dire la Palermo Monte Carlo? È un'esperienza bella e ci mettiamo tutti alla prova e ciò significa che tutti possiamo fare sport e non ci sono limiti, sicuramente sarà una bella esperienza. Quest'anno è la volta della vela del cuore che ha tante sfaccettature, quindi amare la vela con il cuore, avere il cuore per andare a vela, avere un cuore adatto per andare a vela e secondo me quest'anno li sposiamo tutti e tre i concetti. Io sono molto contento di armare una barca e di mettere a disposizione della Lega Navale Italiana, della sezione di Palermo della Lega Navale Italiana, che ogni anno sposa un progetto sociale importante. Quest'anno è importantissimo e che il progetto che apre ha il supporto a chi non ha le abilità che hanno invece tanti altri, a uno sport come la vela che viene visto da molti come uno sport che prevede grandi sforzi, in parte è vero, ma che nel nostro caso, che è il caso di un'imbarcazione da crociera prestata alla regata, ci vede belli contenti e pronti ad affrontare questo tragitto che come molti sanno è un tragitto da quasi 500 miglia, abbastanza impegnativo e che negli altri anni ci ha dato enormi soddisfazioni. Un'imbarcazione della Benetton, un Oceanis 55, si chiama Donna Rosa 2.0, una barca che dà delle belle soddisfazioni con venti superiori ai 12 nodi e un po' meno, visto che è una barca molto pesante, una barca che pesa 20 tonnellate, con venti inferiori a questa velocità.